In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli E' morto il bambino di 10 anni che si era scontrato in bicicletta contro un'auto a Civezzano. La sindaca, grande tragedia, la persona che si trovava nella macchina ha fatto tutto il possibile. Caso Valduga, CIA di Fratelli d'Italia. Nel 2016 una certa arroganza da parte del sindaco nelle sue risposte. Ora renda conto del suo operato ai cittadini. Movida, a Trento arriva Giulia Casonato, sindaca della notte. La socialità è un'esigenza, ma va gestita. Coronavirus in Trentino, nessun morto per il quattro giorno consecutivo e solo due positivi. Doppio zero in Alto Adige e mascherina obbligatoria solo al chiuso. Feste vigiliane, Tonca per Savoi, Segnana e Ferro. Gardin ironizza sulle ordinanze anti-covid e sui virologi. Uscivano con delle robe da Museo degli Orrori.